Sono stati sorpresi lungo l'autostrada del sole con oltre 200 grammi di shabu, una droga potentissima, 10 volte più forte della cocaina, i cui effetti possono essere davvero molto gravi. In manette sono così finiti due cittadini cinesi di 42 e 34 anni, arrestati dagli agenti della sottosezione di battifolle della polizia stradale di Arezzo. I due sono stati fermati questa mattina, erano entrati a Bologna e Casalecchio e viaggiavano in direzione sud, a bordo di una Toyota Yaris. Durante il controllo i due sono apparsi particolarmente nervosi, uno di loro infatti aveva nascosto l'involucro con la sostanza nel giubbotto in uno spazio ricavato nell'imbottitura del cappuccio. È così scattato l'arresto con il sequestro della pericolosa sostanza. Per i due cinesi questa mattina si è svolto il processo per direttissima, per uno dei due quello che aveva nascosto la droga nel cappuccio è stata disposta alla custodia cautelare in carcere. L'altro malvivente invece, dopo la convalida dell'arresto, è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Proseguono adesso le indagini della polstrada per risalire alla provenienza ma anche alla destinazione della metanfetamina.